La guida disse a Luciano Non ricordo come entrai in quelle azzurre chiarità che mi dischiudevano ad una dimensione piena di luce Spaziavo leggero nell'aria Anelavo ma non sapevo che cosa mi muovevo in un silenzio divino pieno di potenza e armonia Poi la potenza mi precipitò nella condizione umana dove mi accorsi di non avere le ali Un alito caldo mi avvampò e darsi come fiamma viva mentre precipitavo Ero di nuovo cenere Commento La guida disse che avevi sperimentato un viaggio astrale